non irrigidire i gomiti e rilassa le mani bene ti assomiglio adesso ho detto bene a te non al tuo schiacciasedere non preoccuparti sono qui da sei mesi e il mio schiacciasedere non è ancora tutti i tu tu ma la danza classica lei odia la danza classica io amo la danza classica povera don noi non c'eravamo si è sentita sola seguito me che tristezza non è riuscita a stare neanche due ore senza di noi cosa non riesco a crederci sono venuti qui non possono stare senza di me e sembra che vogliano anche entrare sentito ha detto non andate siamo arrivati appena in tempo ora vado fuori e li caccia allora che ci fate qui lo sai perché siamo qui tutti sanno perché siamo qui si so perché siete qui ma non credo che possiate rimanere l'insegnante odia chi sta a guardare ragazzi volete unirvi alla lezione certo se c'è nostra sorella veniamo anche noi fantastico venite a cambiarvi ma no loro non vogliono è bello che ci siano dei ragazzi ora potrò mettere in mostra le mie vere capacità stringimi la vita buono stavo dicendo a me sono di che incantata dai non ti buttare giù non è un brutto nome ci ringrazierai dopo hai visto che avevo detto che dovevamo nasconderci nel bagagliaio ma tu no volevi mettere la cintura di sicurezza grazie a tutti